Mi ha fatto specie, mi si permetta, leggere oggi sui giornali le parole di un signore, oltretutto in tonaca, che ha detto che questo ponte, più che unire due coste, unirà due cosche. E' di una volgarità, di un'ignoranza e di una superficialità senza confini. Non solo è una mancanza di rispetto nei confronti di milioni di italiani, la vecchia roba che purtroppo ogni tanto anche qualche buontempone all'estero alimenta mafia, spaghetti, pizza e mandolino. Già mi dà fastidio se lo dice qualcuno dall'altra parte del mondo. Figurati se lo dice qualcuno che è in Italia, per motivi, non so, ideologici. Anzi, io penso che sarà vero l'esatto contrario. Il ponte sullo stretto e le decine di migliaia di posti di lavoro vero che nasceranno intorno al ponte sullo stretto sono la più grande operazione antimafia dal dopoguerra ad oggi. Perché la mafia, la camorra e l'andrangheta la combatti con lavoro, con lo sviluppo, non con i convegni o con le chiacchiere.